Parliamo di calcolosi renali, una patologia che riguarda circa il 10% della popolazione generale. Perché si formano i calcoli? Perché alcune sostanze normalmente contenute nelle urine precipitano fino a formare dei cristalli e pian piano questi cristalli aumentano le dimensioni fino a formare i propri calcoli dei sassolini. Dove si formano questi calcoli? In tutte le sezioni dell'apparato urinario, dei reni dove vengono prodotti, sino agli ureteri o alla vescica. Perché si formano i calcoli? Diversi sono i fattori, alcuni sono di natura genetica e quindi prescindono dalla nostra volontà. Per una non adeguata idratazione, per la presenza di un eccesso di soluti come ossalati, urati o cistina all'interno delle nostre urine, per una carenza di citrati che sono dei naturali inibitori della cristallizzazione o per il ripetersi di fenomeni infettivi che alternano il pH urinario. Quali sono i sintomi legati ai calcoli? Questo dipende molto dalla dimensione del calcolo, dalla sede in cui l'ossesso si sviluppa e dalla progressione che gli stessi hanno all'interno delle vie urinarie. La sintomatologia può variare da un dolore leggero, quasi difficile da definire, in sede lombare, a delle vere e proprie coliche, talvolta anche molto violenti, o addirittura possiamo avere dei casi in cui si ha una vera e propria costruzione delle vie urinarie. Quali le indagini più importanti da fare? Sicuramente l'ecografia e direi oggi un ATAC che meglio definisce la sede e la dimensione del calcolo stesso. Altro esame estremamente importante è qualora si riesce ad espellere un calcolo, l'analisi chimico-fisica dello stesso per capire la vera natura. Più frequentemente si sono diossalato di calcio, ma talvolta possono essere di acido urico, di struvite o di cistina. Cosa fare per prevenire l'insorgenza della calcolosi renale? Sicuramente un'adeguata idratazione estremamente importante, dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno, soprattutto in relazione alla stagione dell'anno. Una corretta alimentazione soprattutto che preveda una riduzione delle proteine di origine animali è un ridotto apporto di sodio, ma è anche necessario sfatare alcuni miti, ossia la dieta povera di calcio non ci aiuta, anzi può essere peggiorativa, perché il calcio è importante per legare gli ossalati e permettere una corretta eliminazione degli stessi a livello intestinale. Esistono anche dei farmaci, dei farmaci come il citrato di potassio e di magnesio che permettono l'adeguata idrolizzazione in alcuni casi dei calcoli, lo scioglimento quindi degli stessi o comunque la prevenzione della loro aggregazione, farmaci alcanalizzanti delle urine o alcuni farmaci iporicemizzanti come l'allopurinol, l'alfe buxostat. In tal un caso può essere importante uno studio metabolico dei pazienti più complessi, uno studio metabolico delle urine. Questo perché permette un inquadramento molto corretto della tipologia di calcolosi e quindi di poter definire in maniera ancora più precisa sia il tipo di dieta che l'approccio farmacologico.